Per me è un flashback particolare perché nel 2011 facciamo la stessa cosa delle barchette a Bologna con l'associazione Progrè, erano tutt'altri tempi ma ancora manca come allora una risposta europea. Il messaggio di oggi è questo, serve una risposta europea a un tema che è europeo, perché le persone che stanno scappando non scappano verso l'Italia, la Grecia o la Spagna, stanno scappando verso l'Europa e quindi è necessaria una presa di coscienza da parte dei governi che serve un'operazione di ricerca e soccorso in mare, una mare nostrum europea. L'operazione Triton, come molti di noi dicono da mesi in questo Parlamento, inascoltati, non è adeguata minimamente perché non ha i mezzi sufficienti, perché non si spinge oltre le 30 miglia mentre la mare nostrum arrivava a 172, in quello 140 miglia di differenza le persone hanno ricominciato a morire, questo era evidente e adesso ovviamente tutti si svegliano che forse è il caso di considerare una risposta diversa. Servono due tipi di risposte, una nel breve termine ed è quella dell'emergenza del mare e per questo serve un'operazione europea con veramente l'impegno di tutti i governi. in nome di quella solidarietà e di quella responsabilità condivisa che è già scritta dentro i nostri trattati e poi serve una risposta di medio termine, cioè come evitare che le persone finiscano nelle mani dei trafficanti e per questo serve la creazione di corridoi umanitari, di vie di accesso legali e sicure all'Europa e non lasciamoci spaventare dai numeri, perché l'anno scorso parliamo di 450.000 richieste d'asilo in Europa, un continente di 500 milioni di abitanti. Lo sappiamo o no? Che Libano e Giordania stanno ospitando quasi un milione di rifugiati a testa. Allora non è che dobbiamo alimentare questo dibattito politico assurdo con termini del tutto falsati. Qui serve una risposta comune e se non lo facciamo falliamo la nostra missione come Unione Europea.